L'Avellino domani scenderà in campo al Ceravolo di Catanzaro per la gara relativa agli ottavi di finale della Coppa Italia di categoria. Mister Massimo Rastelli ha lasciato a casa l'argentino Julian Illanesce fuori per scelta tecnica, mentre Richard Marconi, Antonio Di Gaudio, Jacopo Dall'Oio e Gianmaria Zanandrea sono sempre fermi ai box per infortunio. Rastelli valuta la doppia ipotesi, qualora dovesse essere 4-2-3 davanti a Forte ci saranno Ricciardi e Tito sugli esterni ed il duo Moretti-Auriletto in mezzo. In mediana Maisto-Matera e Garetto in avanti Trotta-Murano al centro e Guadagni-Canutè a contendersi una maglia del stolare sul lato opposto. Nel caso dovesse essere 4-3-1-2 forte in porta Ricciardi e Tito sugli esterni, Moretti e Auriletto in mezzo con Maisto-Matera e Rumeno-Mikoschi a comporre il terzetto di centrocampo. In avanti alle spalle del duo Trotta-Murano ballottaggio Guadagni-Canutè con l'ex calciatore della Paganese sempre favorito sul senegalese che vanta un passato proprio in Calabria.